e io adesso qui cercherò di darvi un'idea più possibile naif e ho fatto un sacco di disegnini anche perché ho scoperto che si possono mettere molto facilmente sul beamer e quindi mi sono un lasciato andare e qual è la questione allora io quello che vorrei discutere con voi è un problema di propagazione delle onde e ci sono ovviamente tantissimi esempi a vari livello di possibili fenomeni di propagazione di onde a me piace pensare alle onde dell'acqua perché un po' perché alcune delle cose che non che ho fatto io ma che ho fatto gente con cui ho lavorato si possono applicare a dei modelli ragionevolmente realistici delle onde dell'acqua e un po' perché si vede bene il punto ovviamente quando uno studia un fenomeno complicato come le onde dell'acqua questo è un disegno che ho preso da un sito di fisici in effetti si può studiare a tantissimi livelli nel senso che uno potrebbe voler studiare che cosa succede dentro all'acqua dentro a ciascuna dentro all'acqua io potrei immaginare di sezionare di fare l'acqua in tanti piccoli pezzettini e studiare come si muove ciascun come si muove l'acqua al di sotto ci potrebbero stare dei vortici ci potrebbero stare tutta una serie di fenomeni estremamente complicati e io credo che i modelli più realistici si facciano poi con una parte di numerica quello che voglio far discutere io però è un punto di vista diverso è un punto di vista in cui si fanno delle soluzioni esatte quindi degli studi esatti però su dei problemi semplificati allora la prima semplificazione che io farò e che sarà sempre vera uno potrebbe dirmi vabbè ha senso oppure no la risposta è sì e la prima semplificazione quindi è che io non voglio sapere nulla di che cosa succede all'interno del corpo dell'acqua voglio soltanto discutere il profilo dove per profilo intendo il bordo ok fra l'acqua e l'aria che cosa vuol dire vuol dire sostanzialmente che io mi immagino di avere un istante iniziale e per qualche motivo che non non vado a discutere nell'istante iniziale ho un certo profilo qui ho fatto un disegno di una vasca da bagno insomma una cosa limitata in cui ci sta un certo profilo e sto ipotizzando anche che questo profilo sia ragionevolmente liscio tutte ipotesi che sto facendo per semplificare in principio potrei voler guardare anche che cosa succede se qui ci sta un'onda con una cresta più che ragionevole per l'acqua e a questo punto voglio sapere che cosa succede in ciascun istante al passare del tempo quindi la mia incognita sarà per ciascun punto x una funzione h di x e t e quello che succede io le ho scritte le equazioni differenziali un po per deformazione professionale nel senso che cosa vado poi a studiare io equazioni differenziali e le derivate parziali non lineari però potete largamente ignorare questa frase le chiamerò edp ogni tanto mi sbaglierò le chiamerò pd che viene dall'inglese e quello che dovete pensare è che io il mio target è calcolare questa funzione che è una funzione di due variabili e io la trovo dicendo come si comportano le sue variazioni rispetto al tempo e allo spazio in una maniera potenzialmente estremamente complicata va bene e qui vi ho scritto due equazioni giusto così per per fare scena e naturalmente uno mi può dire bon che senso ha fare questo disegno unidimensionale vuol dire questo evidentemente vuol dire che io mi immagino che le onde siano quello che si dice onde piane e che quindi io posso fare una sezione e descrivere con un'unica variabile spaziale e questo per esempio se sono in un fiume è ragionevole se sono vicino alla costa è ragionevole tutte una parte di quello che io farò sarà cercare di mettere delle ipotesi ragionevoli per circoscrivere il problema e poi inizierò a dare dei risultati va bene quindi ovviamente uno potrebbe dire bene non è che ci sono solo le onde piane è vero è soltanto che questo è un pochettino più semplice tutto qua ecco un po di altri esempi e qui per esempio allora secondo me poi magari è wishful thinking però secondo me da questi disegni uno dovrebbe riuscire a capire dove siamo nell'acqua per esempio secondo me questo è una buona foto delle onde in mezzo all'oceano perché perché non c'è nessuna direzione privilegiata è tutto abbastanza liscio io mi posso immaginare che qui queste sono delle onde nell'acqua profonda d'altro canto nel secondo disegno vedete che ci sono delle onde piane qui o c'era il vento che ha fatto sì che ci fosse una direzione privilegiata vedete che qui ci stanno una direzione io immagino che sia questa la direzione qui c'è una freccia in cui si sta muovendo l'acqua e se vedete questo disegno qui in sezione abbastanza ragionevole no allora qui o c'è una costa e una costa dritta e l'onda si avvicina alla costa oppure ci deve essere qualche fenomeno esterno che mi costringe l'onda ad avere quella forma se no non ha nessun particolare senso questi qui invece non so se si vede qualche cosa qui abbastanza grande vedete che qui c'è un'onda che forma un curioso pattern a diamante allora e qui invece c'è un'altra foto questa in realtà è una simulazione però non ero in grado di trovare una foto vera altrettanto carina qui io mi immagino fra le varie possibili onde di voler cercare di vedere se è possibile avere un'onda con questa forma qui questi sono esagoni va bene quindi questo tecnicamente uno lo dice che i comportamenti che si vedono dipendono dalle condizioni al contorno per esempio questo è un esempio che mi piace molto perché in realtà questo tipo di cose le ho studiate nella mia tesi di laurea quindi un po' di tempo fa non ho più avuto occasione di fare questo tipo di cose ma secondo me è molto carino immaginatevi di stare in un fiume estremamente lungo che cosa succede a un estremo quindi in una regione un dominio illimitato cosa succede in questo estremo dovrebbe essere largamente indipendente da che cosa succede qua non mi posso immaginare che il comportamento qua sia legato potrei immaginare quello che mi pare però la cosa più ragionevole è che siano largamente indipendenti quindi che cosa succede qui non influenza quasi per nulla che cosa succede da questo estremo quando è che iniziano a parlarsi ad interagire quando sono vicini a quel punto un'immagine ragionevole è che queste interagiscono ripassano e se ne vanno all'infinito non l'ho aggiunto il disegno o si è perso va bene questo è un fenomeno ragionevole immaginate invece di stare in un dominio limitato questo sarebbe il disegno di una corda vibrante nelle mie intenzioni poi può essere che non si veda tantissimo allora qui io ho fatto direttamente un disegno oscillante però voi vi potreste immaginare di avere la vostra corda vibrante e dargli una schicchera non ci potrà mai stare il fenomeno di non interazione quello che io mi aspetto è che in una corda vibrante ci siano dei fenomeni oscillatori va bene ed è per questo che io mi concentrerò unicamente su problemi su domini limitati in cui il mio target è cercare di capire un modo oscillatorio questo è un ultimo esempio che volevo mettere perché lo trovo molto carino e di nuovo perché erano le prime cose che ho studiato durante la tesi di laurea addirittura un'idea molto semplice ma molto profonda che a un certo punto negli anni 90 andava molto di moda delle equazioni di modulazione allora l'idea è questa voi avete il vostro corpo di acqua che ha un comportamento complicatissimo non è che a voi veramente interessa sapere come è fatta qualsiasi ondina vi andrebbe bene avere una visione un po più dall'alto in cui potete invece di osservare queste come si comportano queste onde che oscillano molto rapidamente potreste voler sapere come si comporta questo profilo in blu ok quindi soprattutto se queste onde sono molto fitte e voi state abbastanza lontano queste non le vedete va bene allora uno si domanda per larga classe di modelli quale tipo di equazione soddisfa questa la curva in blu è la risposta che all'inizio sorprese però poi è stata verificata in tantissime circostanze è che quasi sempre esce un'unica equazione che si chiama l'equazione di schrodinger non lineare che io vi ho scritto sempre per il vostro piacere e la cosa interessante diciamo non è neanche tanto come è fatta questa equazione quanto il fatto che compare in tantissimi contesti trasmissione delle onde nei mezzi nelle fibre ottiche del nello studio dei moti ondosi esce fuori a un certo punto la facevano uscire fuori anche da dei modelli di comportamento di molecole in dei sistemi complessi e quindi vale la pena studiarlo e io in effetti ho lavorato tantissimo su questa equazione tutti questi sono modelli non lineari e cosa vuol dire non lineare è piuttosto semplice vedete io qui ho derivata rispetto al tempo derivata rispetto allo spazio quindi questi termini qui mi dicono che io voglio controllare come varia questa curva nel tempo e nello spazio non lineare è semplicemente perché qui ho il prodotto della funzione è una funzione non lineare qui ho u qui ho u al cubo perché sostanzialmente perché le equazioni lineari sono troppo semplici vi farò vedere un po di soluzioni che possono uscire fuori da un modello lineare e non riescono a catturare la complessità del moto delle onde in particolare con un moto lineare io potrei forse riuscire a descrivere una cosa di questo tipo qui delle onde lisce che si mantengono più o meno sempre invariate poi vi faccio vedere dei disegni un po più precisi però se volessi descrivere delle onde di questo tipo per esempio un'onda che parte liscia e poi a un certo punto forma una cresta non ho nessuna speranza di farlo con delle equazioni lineari e quindi faccio modelli non lineari perché catturano molti più fenomeni il problema è che nei modelli non lineari uno non si aspetta veramente di essere in grado di trovare le soluzioni quindi io vi ho sempre detto quello che io voglio fare è trovare in maniera esatta la soluzione h di x e t però poi nella realtà non è veramente vero che uno è in grado di trovarla in effetti tutte le equazioni che ho scritto ho barato brutalmente tutte le equazioni che vi avevo scritto prima per esempio questa la corte verdevri sono equazioni specialissime in cui effettivamente con metodi in cui non entro anche perché non ne so tantissimo uno volesse potrebbe trovare le soluzioni esatte però io questo sono consapevole di questo fatto si usa in effetti per modellizzare le onde però non è quello che vorrei che voglio discutere adesso perché perché sostanzialmente voi immaginatevi state facendo un modello questo vuol dire che avete un'approssimazione l'approssimazione sta sia nel profilo iniziale nessuno vi potrà dire esattamente come sta l'onda che voi volete descrivere all'istante zero ci sta una precisione finita in cui uno può sapere qualsiasi cosa in più io ho scritto un'equazione ma nessuno vi può aggiurare che questa è esattamente l'equazione corretta tutto è frutto di approssimazione quindi io sostanzialmente vorrei poter dire delle cose scusatemi l'ho scritto in matematica perché non ero capace di dirlo in altro modo ma qual è il mio concetto io voglio essere in grado di dire delle cose che restano vere quindi voglio fare solo affermazioni che restano vere quando io cambio seppur di poco l'equazione o cambio seppur di poco il profilo iniziale e questa è una questione molto più delicata l'ho scritto queste proprietà si chiamano di essere proprietà robuste va bene quindi quello che io voglio dire voglio dire qualche cosa che resti vero quando io cambio di poco l'equazione o cambio di poco il profilo e questa è una cosa estremamente difficile perché in tutti i fenomeni non lineari anche le cose più semplici in un'equazione non lineare in una variabile senza equazioni differenziali tipicamente questa cosa è falsa ok e a questo punto io devo essere molto attenta nel pormi le domande giuste e la dicotomia sempre diciamo la scelta è sempre per essere in grado di dire quasi tutto però per pochissimi oggetti quindi sapere tutto su nulla oppure quasi nulla ma per quasi ogni scelta di equazione è una cosa difficile dover scegliere fra tutto su nulla e nulla su tutto però la realtà è questa quindi e la prima cosa che farò è di decidere di raccontarvi solo modelli ondulatori questo perché il lavoro su questi e li conosco meglio e secondo me nella interazione fra ordine e caos sono anche quelli più interessanti e vorrei descrivervi due tipi di moti uno appunto i moti ricorrenti quelli che sono sostanzialmente i tori invarianti di cui parlava Susanna moto ricorrente vuol dire che io prendo un dato iniziale un profilo iniziale scusatemi che ha un certo aspetto con certe lunghezze caratteristiche per esempio questo che è la sovrapposizione di due onde ok uno si può immaginare per qualche motivo che non vado a specificare perché all'inizio il profilo sia questo e vorrei sapere se ci stanno delle soluzioni in cui il profilo resta più o meno invariato non è che deve stare fermo però magari oscilla e dopo un po' vediamo se lo riesco a beccare no non ci riesco a un certo punto questo è un profilo periodico dopo un certo tempo dopo che è passato un certo tempo viene esattamente lo stesso profilo iniziale se lo guardate uno lo dovrebbe vedere va bene l'altra opzione invece che mi interessa e cos'è che intendo quando penso a una cosa caotica sono i moti turbolenti modo turbolento ci sono tantissime definizioni e questa io l'ho presa per buona quindi non me lo chiedete perché succede questo voi partite con questo profilo iniziale che ha una certa scala questo seno di 2t passa il tempo e ridiventa più piccola vedete la scala diventa molto più stretta questo qui purtroppo non ero capace di non farlo andare in loop non è che veramente torna indietro diventa sempre più stretta l'onda questo qui si chiama una energy cascade altra possibilità una cosa intermedia il moto mi sembra che sia un moto turbolento ma in realtà non è vero che cosa vuol dire vuol dire che io penso di vedere questa cosa qui ma se aspetto abbastanza effettivamente ritorna allo stato di prima e si ripete in maniera periodica ok questo si chiama un battimento una cosa in cui io due fenomeni diversi vado periodicamente da due su due comportamenti diversi altro fenomeno e questo veramente non vi dirò nulla ma questo è interessantissimo sono le onde di shock cioè io parto da una cosa liscia aspetto un po di tempo vedete qui ho cercato di disegnare questo non ero capace di fare la simulazione me l'hanno insegnato due giorni fa come fare quei disegnini e diventa sempre più si forma sempre di più un angolo fino a che a un certo punto si rompe l'onda in questo disegno qui questa qui non è più una funzione nel senso che in questo punto ho due valori possibili del profilo questa è un'onda di shock io discuterò i primi due sostanzialmente però evidentemente sono estremamente interessante anche il 3 e il 4 è solo che uno deve scegliere qualche cosa da raccontare e ops aspettate ci litigerò un pochino questo computer quale sarà l'idea bon vi ho detto non si riescono a fare soluzioni vere che cosa provo a fare provo a costruire delle approssimazioni quindi l'idea è antichissima uno parte da una prima approssimazione della soluzione non è veramente una soluzione ma ci sta vicina poi cerco di correggere e trovare delle cose che sono sempre più vicine a essere una soluzione vera ok qual è il punto allora io parto da zero e costruisco una soluzione approssimata poi costruisco una soluzione ancora che è un'approssimazione ancora migliore e vado avanti ma intanto mi devo convincere che se faccio questa cosa infinite volte ottengo qualche cosa poi mi devo convincere che questa qualche cosa è una soluzione nessuno me lo dice ci sono vari esempi in cui queste procedure non funzionano e l'altra domanda che forse è quella applicativamente più interessante però ovviamente a me piacciono molto più le domande che vi ho fatto prima è supponiamo di volersi fermare a un certo punto dell'approssimazione quali sono le scale di tempo giuste cioè per quanto tempo questa approssimazione è un'approssimazione corretta accettando che magari non lo sarà per infinito tempo perché io non sono in grado di fare infinite approssimazioni queste sono tutte domande parecchio difficili e vorrei appunto avere un'immagine che sia sostanzialmente vera per molte classi di equazioni qual è l'idea più semplice ce ne sono di molto più raffinate però io sostanzialmente mi sono occupata di questo cerco delle soluzioni piccole quindi immaginatevi nella mia onda ricordatevi che h è sempre il profilo voglio un profilo che è praticamente piatto ok in questo caso di profilo piatto vuol dire che h è piccola se h è piccola h al quadrato h al cubo è molto più piccolo di h e io posso sperare di trascurare questi pezzi qua e come prima approssimazione semplicemente li ignoro questo era effettivamente quello che si faceva nello studiare questi modelli quindi vado benissimo quindi che cosa voglio fare voglio prendere questa equazione risolverla e qui sfortunatamente sono perfettamente in grado di farlo e lo sapeva fare furie qui io seguirò esattamente il metodo con cui risolverebbe furie e a quel punto mi domando per quanto tempo sono delle buone approssimazioni o che cosa posso fare per ottenere delle soluzioni vere vicino a queste queste soluzioni approssimate l'ho già detto però ve lo ridico quindi quali sono le mie domande così le tenete ben presenti allora io risolverò la parte lineare e poi mi domando è vero che ci stanno dei tempi per i quali tutte le soluzioni dell'equazione vera sono vicine a una soluzione dell'equazione lineare ok questa sarà la mia prima domanda in cui io chiedo qualche cosa che debba essere vero per tutte le soluzioni seconda domanda vorrei sapere se ci stanno delle soluzioni vere quindi profili che secondo la mia approssimazione in cui studio un'equazione differenziale sono i profili dell'acqua che stanno vicini ai profili lineari per sempre e poi la terza domanda che è più vaga ma la specificherò è quali sono gli effetti nuovi che compaiono che prima nei modi lineari assolutamente non c'erano e adesso compaiono benissimo qui come vi dicevo questo lo sapeva fare furie nel settecento studiare queste equazioni quindi io vi avevo detto voglio lavorare sempre su domini limitati quindi mi sono messa in 0 2 pi greco e questo spero basi qui si vede benissimo enorme è 0 2 pi greco quali sono le soluzioni di quest'equazione qui sostanzialmente qui ho messo solo i seni però la stessa cosa funziona anche per i coseni sono delle oscillazioni in cui io fisso un numero naturale k 1 2 3 quello che vi pare la soluzione come è fatta è k per x più k cubo per t che cosa vuol dire vuol dire che se voi questo è k uguale a 1 questo è k uguale a 3 più grande è k più questa equazione si muove velocemente spero che si veda da questo guardate questo è k uguale a 1 che si muove se è un'onda viaggiante e questa è k uguale a 3 se io avessi messo un k uguale a 5 non solo vedevo l'onda più stretta ma la vedevo muovere talmente veloce che avreste visto una striscia va bene quindi queste sono e a questo punto queste sono sostanzialmente tutte le soluzioni possibili nel senso che siccome questa è un'equazione lineare se io parto da un profilo che è la sovrapposizione di due onde o più onde quello che succede è che il profilo nel tempo sarà semplicemente la sovrapposizione dei moti di quelli che vi avevo fatto prima quindi se voi prendete questi due disegni e li sommate vi viene questo che era il disegno che vi avevo detto come moti ricorrenti ok quindi sostanzialmente quello che vi sta dicendo è che nel caso come vi dicevo nel caso lineare non posso vedere nessuna turbolenza va bene a questo punto qui viene l'approccio dei sistemi dinamici nel senso che io questi tutti questi moti ondosi li penso semplicemente come delle molle queste molle vogliono dire cioè ciascuna molla rappresenta un'onda che oscilla questo potrebbe essere k uguale a 1 questa era la mia prima onda questa qua e la sua ampiezza mi rappresenta di quanto di lato la molla va bene è un modello estremamente accettato a questo punto vedete in questo disegno io k potrebbe essere positivo o negativo quindi le ho messe queste sono infinite molle sia da più infinito che a meno infinito e io mi immagino come faccio a rappresentare le onde beh il fatto che ci sia una onda vuol dire che queste due molle questa sarebbe tre e aiutatemi sei sono non sono ferme quindi questa l'ho compressa e questa l'ho dilatata con una certa ampiezza a quel punto questo fa schifo però l'ho fatto a mano che cosa succede che le molle ferme restano ferme e le molle che io ho dilatato si muovono e ovviamente questa si doveva muovere molto più lentamente di questa ma di nuovo non sono capace quindi a questo punto ci devo mettere l'effetto non lineare l'effetto non lineare è una piccola interazione fra le molle che ho fatto con un disegno terribile però per darvi un'idea effettivamente i primi modelli si facevano proprio così io ho segnato un'altra molla che in realtà è non lineare che collega molle vicine ok questo qui è un primo modello della trasmissione dell'acqua allora che cosa succede succede che se io ho acceso queste due molle qui siccome queste sono connesse automaticamente faccio muovere tutte le molle in viola e quindi il moto può diventare estremamente più complicato in particolare se io aspetto un po di tempo questa molla viola mi muoverà ancora questa e posso trasmettere energia da una molla a un'altra va bene quindi io potrei partire con un'onda che inizia con k uguale 3 e k uguale 7 e poi trasmettere a onde con k molto più alta ovviamente questo disegno lo posso fare quante dimensioni volete ne ho disegnate due perché i modelli delle onde d'acqua vanno in dimensione 1 in dimensione 2 e qual è il problema diciamo perché sto barando brutalmente sto barando brutalmente perché questo modello più semplice possibile ciascuna è un modello che si dice interazione a primi vicini ciascuna molla è connessa soltanto alle due molle vicine in realtà in un qualsiasi modello decente che viene dalle pd e ciascuna molla è connessa con tutte le infinite altre molle quindi diventa tutto un pochettino più complicato da trattare però secondo me concettualmente da una buona idea perché uno intanto come prima cosa che fa inizia a provare a studiare questo che è quello che è stato fatto in effetti che cosa fa uno prima dice queste sono infinite molle ignoriamone tutte tranne queste qua e quindi proviamo a vedere che cosa succede se ce ne ho solo un numero di finito di molle vediamo che teoria c'è dietro e proviamo ad estendere se lo faccio quali sono i risultati su cui devo contare beh questo me lo dice sostanzialmente la teoria la cam col mogoro farnold moser che è una teoria che è stata sviluppata nel fine anni 50 anni 60 più o meno qual è che cosa mi dice questa teoria è stata in realtà pensata sotto delle ipotesi levemente diverse però si può riuscire a farla fittare mi dice sostanzialmente questo e poi vi farò qualche altro disegno sostanzialmente se io immagino le mie otto molle e faccio una ciascuna molla la dilato in un qualche modo sostanzialmente per quasi tutte le scelte della dilatazione delle molle l'ampiezza di oscillazione quanto oscillano resta più o meno costante non cambia tantissimo d'altro canto questo succede anche questo mi interesserà nel caso delle infinite molle quindi tenetelo presente il punto 2 se altra questione immaginatevi di prendere un profilo iniziale fatto con solo tre molle accese tutte le altre ferme che cosa succederà beh per quasi ogni scelta del per molte scelte della perturbazione di scusatemi di come metto l'ampiezza delle molle sostanzialmente si muoveranno solo queste cioè le altre molle si muovono un poco ma non tantissimo ok questo per tutti i tempi quindi sostanzialmente l'immagine è molto simile a quello che vedete in un caso lineare nel caso lineare se io do energia a tre molle l'energia resta solo su quelle tre molle e l'ampiezza resta esattamente costante in un modello non lineare l'energia resta quasi tutta su quelle tre molle e l'ampiezza resta quasi costante però due cose la prima cosa è che tipicamente non è più vero che le soluzioni ricorsive sono periodiche non è vero che dopo un certo po' di tempo rivedo esattamente lo stesso profilo iniziale nel caso lineare addirittura aspettavo tempo due pi greco mi riveniva esattamente lo stesso disegno iniziale qualsiasi scelta di molle qui quello che succederà è che io lo dico le molle si sfasano ovviamente queste cose sono tantino più raffinate però permettetemi di dirlo in maniera naif l'altra questione è che anche se questo è il comportamento tipico ci stanno dei dati iniziali quindi ci stanno delle ampiezze speciali in cui sostanzialmente la quantità di l'ampiezza di oscillazione delle molle cambia in maniera drastica poi vi faccio dei disegni però ci stanno dei fenomeni quindi vi ho detto quasi tutte le cose vedete qualcosa che è quasi indistinguibile dal caso lineare però ci stanno delle soluzioni speciali che sono proprio la diffusione di Arnold di cui parlava Susanna in cui invece ci stanno dei fenomeni di trasferimento sostanziale di energia da una molla a un'altra questa cosa si vede in maniera carina in questo disegno qua come è fatto questo disegno? allora invece di rappresentare le molle come molle le penso come dei cerchi disegno un cerchio in cui il raggio del cerchio è l'ampiezza di oscillazione della molla avevo perso l'energia nel fare i disegni quindi posso immaginare che il mio modello lineare è fatto da prodotto di cerchi se c'è n molle o n cerchi ciascuna molla si muove e la sua ampiezza descrive un cerchio ok? potreste immaginare per esempio che la molla è la scissa è la proiezione sulla scissa di un punto che si muove sul cerchio a quel punto vi viene la molla in oscilla così ok? a questo punto qui ho fatto n uguale a 2 il prodotto di due cerchi vi viene un toro e qui ho disegnato tanti tori perché vi ho detto il raggio del cerchio deve rappresentarmi l'ampiezza di oscillazione della molla quindi questo è il disegno nel caso lineare adesso che cosa succede quando ci metto l'interazione? purtroppo questo non è il disegno più generale possibile perché vi ho disegnato n uguale a 2 però era l'unica cosa che ragionevolmente uno è in grado di disegnare quindi che cosa faccio? ho questo mio disegno tridimensionale taglio nel caso lineare vedo un prodotto di cerchi nel caso non lineare che cosa vedo? vedo che ci sono ancora molti cerchi in realtà la maggior parte di questi cerchi viene preservata soltanto un pochettino deformata questi si chiamano i tori cam massimali questi cerchi ovviamente corrispondono a un toro bidimensionale è semplicemente una sezione poi che cosa succede? succede che fra due cerchi si formano intanto questi tori questi nuovi cerchietti che vedete qui non ci sono non solo non ci sono perché il disegno è troppo piccolo veramente non ci sono queste sono delle orbite tipi di comportamenti che al caso lineare non c'è non è dato e poi non so se li riuscite a vedere forse lo punto da qua viene meglio vedete che ci stanno queste orbite non viene meglio queste qui che si intersecano in un punto un punto che cos'è? ricordatevi che ogni volta io devo prendere questa figura e gli devo far girare due pi greco un punto è in realtà un cerchio quindi un toro unidimensionale e queste orbite qui sono delle orbite caotiche complicate da descrivere che in una simulazione sostanzialmente vi farò vedere un disegno un po' migliore vengono rappresentate come punti in cui il comportamento non solo è molto diverso qualitativamente da quindi è un disegno molto complicato ma in cui io posso effettivamente vedere sono è qui dove io vedo la trasmissione di energia da la molla A a una molla molto lontana ok peraltro mi ha fatto ridere quando Susanna diceva che studiavo i tori invarianti quando sono arrivata giovane ingenua dottoranda da fisica ho iniziato a studiare queste cose facevo appunto la diffusione di Arnold allora i miei amici mi chiesero ma che cosa stai studiando ecco queste cose qui si chiamano i tori baffuti perché questi pezzettini di orbite si chiamano i baffi e mi ricordo che mi guardarono veramente con aria perplessa dopo che avevo detto questa cosa ma si chiamano così termine tecnico i tori baffuti bom questo è un disegno un pochettino più accurato di che cosa succede che raccoglie un'altra caratteristica di questi fenomeni che è l'autosimilarità che cosa vuol dire? vuol dire che in realtà quando io vi dico che queste sono orbite che ci sono molte orbite ricorrenti queste orbite ricorrenti però sono come si dice fra orbite ricorrenti ci stanno dei comportamenti caotici e lo vedete a varie scale cioè guardate questa è una simulazione in cui uno riesce a vedere piuttosto bene i cerchi sono orbite ricorrenti quello che vedo come dei puntini sono delle orbite caotiche in cui non so bene che cosa succede non vedo un comportamento regolare naturalmente una funzione però se io vado a guardare questa regione caotica e ingrandisco effettivamente ingrandendo rivedo orbite ricorrenti e isole in cui non so bene che cosa succede ingrandisco orbite ricorrenti isole caotiche e così via il fatto è che in realtà si può parametrizzare se io prendo il dato iniziale quindi scelgo l'ampiezza iniziale delle molle e voglio sapere se il comportamento è ricorrente oppure no sostanzialmente posso calcolare una funzione e poi c'è una regola abbastanza semplice che mi dice che tra orbite ricorrenti o caotiche dipendono se una certa funzione del dato iniziale è un numero di ofanteo per i matematici il che vuol dire che questa è una caratteristica estremamente complicata e mi descrive un insieme di tipo Cantor ok quindi quando io dico ordine e caos nei sistemi dinamici intendo proprio questo intendo che ci sono vicino fra di loro comportamenti estremamente diversi quello che il meglio che io posso dire è che per molte scelte dei dati iniziali nel senso scegliete a caso avete probabilità di beccare un'orbita ricorrente se avete sfortuna beccate l'orbita caotica ovviamente dipende da che cosa state cercando magari cercavate dell'orbita caotica però questo è a questo punto che cosa succede in dimensione infinita in dimensione infinita si riescono a fare questo questo ha iniziato a lavorarci la gente dal sostanzialmente fine degli anni 80 cercare di prendere il problema e trasferire a un modello di infinite molle possibilmente un modello in cui gli accoppiamenti fra le molle non fossero primi vicini ma fossero molto più complicati allora che cosa si è visto la prima cosa che si riesce a fare era quello che era il mio secondo punto nei risultati finito dimensionali avete infinite molle però ne accendete solo tre per quasi tutte le scelte delle ampiezze di queste tre molle quello che vedrete sono le soluzioni quasi periodiche cioè che il moto resta più o meno tutto su queste tre molle solo che se nel caso lineare le tre molle erano in fase nel caso non lineare si sfasano e qui c'è un modello questo è dovuto alla mia studentessa Shulamit Terracina io non ero brava a farlo questo vedete la sovrapposizione di queste tre onde solo che queste tre onde non si muovono esattamente con la stessa velocità per cui questa è la sovrapposizione questa non si non ci sarà mai un istante di tempo in cui questa esattamente si ripete come all'inizio però sostanzialmente questo qualitativamente sembra un comportamento abbastanza regolare e questo è quello che si intende per comportamento regolare si è piuttosto cioè recentemente recentemente vuol dire che il primo risultato che io conosco è del 2000 e poi ci sono stati un paio di nuovi risultati un paio di anni fa del 2018 si è riuscito effettivamente a dimostrare delle soluzioni regolari in cui hanno energia quindi sono accese oscillano infinite molle questo è molto più difficile da fare di vari step ah scusatemi è qua va bene quindi ci stanno pochissimi risultati in cui ho infinite molle e sono praticamente tutti in dimensione 1 quindi le molle sono tutti messe lungo una retta abbastanza recentemente si è riuscite a fare sempre un numero finito di molle però in casi più complicati di quelli che vi ho scritto io quindi per esempio equazioni che sono più vicine alle equazioni vere che uno si aspetta che descrivano i moti dell'acqua per esempio le equazioni di Olero questo è stato mi sembra 2018 un lavoro di Baldi Berti House in Montalto molto bellino un'altra cosa che si è riuscito a fare io vi ho fatto tutti i disegni in dimensione 1 si riescono a fare casi in cui le molle sono distribuite sul reticolo bidimensionale si riescono a fare anche cose più raffinate di semplicemente Z2 quindi semplicemente punti uniformemente distribuiti sui punti interi ci stanno vari lavori anche questo è abbastanza complicato per quello che riguarda i moti che in dimensione finita sono non tipici cioè i moti in cui trasferisco energia da un insieme di molle a un altro insieme di molle possibilmente lontani su questo di nuovo ci stanno ben pochi risultati sostanzialmente il primo risultato è un risultato del 2011 di quella che viene chiamata la I-Team cioè Colliander Kill Tausta Filani e Takaoka è un risultato bellissimo e si riescono effettivamente a farle costruire la soluzione che vi ho fatto vedere se volete ve le faccio rivedere cos'è la moto di turbolenza dovrebbe stare da qualche parte qui no ce la possiamo fare eccolo moti turbolenti è questo vedo qualche cosa parte da una scala e diventa molto più rapidamente oscillante in scala molto più fitta il problema è che io vi ho fatto un disegno in dimensione 1 però purtroppo gli unici esempi che si sanno fare sono in dimensione 2 ed è questi modelli dovuti all'I-Team sarebbe molto carino saper fare lo stesso fenomeno di turbolenza in dimensione 1 in ogni caso qual è il problema di tutti questi risultati è che mentre in dimensione finita io posso dire qualcosa su cosa succede tipicamente quindi molte scelte di dati iniziali quindi molte scelte di profili iniziali restano periodiche nel caso infinito dimensionale assolutamente no perché perché quando io cerco delle soluzioni in cui muovo un numero finito di molle queste soluzioni non possono essere tipiche la cosa tipica se voi avete infinite molle è che tutte si muovano e allora lì si sa fare pochissimo solo in dimensione 1 e solo su dei modelli che non sono completamente soddisfacenti e anche lì poche soluzioni anche di questo tipo quindi quello che si ritiene sia uno dei problemi aperti più interessanti è cercare di dire qualche cosa su quali siano le soluzioni tipiche però questo è un problema aperto nel senso che non c'è neanche consenso su quale sia veramente la risposta non lo sa nessuno al momento tutte queste che si sanno trovare sono tutte non tipiche meglio di niente quindi va tutto bene e vi ho fatto due disegnini e poi forse ho esaurito il mio tempo però benissimo infatti c'era scritto fine al slide dopo per farvi vedere i giochini delle molle bidimensionali dove riesco a fare sia i moti turbolenti che i moti regolari allora che cosa vuol dire un moto regolare vuol dire allora intanto faccio il disegno delle molle piazzate su tutti i punti interi in dimensione 2 poi che cosa faccio per semplificarmi la vita alzo e guardo immagino che le molle ferme rappresentino un punto a quel punto do energia a un numero finito di molle per esempio queste quattro che cosa dice il teorema questo effettivamente è forse l'unico che sta dicendo che è mio insieme a mio padre Claudio Procesi e qual è l'idea allora se voi per molte scelte di questi punti quindi per molte scelte dei punti rossi punti rossi vuol dire sono le molle che non stanno ferme quindi per molte scelte dei punti rossi e molte scelte delle loro ampiezze se io perturbo queste molle con queste ampiezze la soluzione che vedrò è una cosa di questo tipo le molle rosse che continuano a muoversi più o meno con la stessa ampiezza e le molle viola che prima se stessi trascurando la cosa lineare stavano ferme si muovono ma pochissimo ok e questo ricordatevi per molte scelte dei punti rossi e per molte scelte delle ampiezze di nuovo è tipico no perché la cosa tipica è che tutte le molle sono accese va bene però meglio di nulla secondo caso turbolenza in realtà questa come turbolenza fa un po' pena però non riuscivo a fare un disegno particolarmente fatto meglio scegliete gli stessi tre punti quindi quattro stesse molle rosse ho detto che per quasi ogni scelta delle ampiezze resta fisso su quelle ampiezze però se io stesse molle rosse scelgo dei valori speciali delle ampiezze e do un pochettino di energia a queste altre quattro molle qua che ho disegnato in verde quindi questo è il mio istante iniziale aspetto parecchio tempo tempo molto lungo e che cosa succede? le molle rosse sono quasi ferme e le molle verdi si oscillano tantissimo ora queste molle stanno tutte più o meno su gli stessi tipo di oscillazione quindi non è veramente un fenomeno in cui io vedrei della turbolenza però questa idea qui raffinata di parecchio è l'idea dell'i-team che porta alla turbolenza va bene? e se io avessi fatto il disegno in maniera decente questi punti dovrebbero rappresentare i quattro vertici di un rettangolo visto in prospettiva però insomma forse questi rappresentano si vede che sono i quattro vertici di un rettangolo però questino va bene? e miracolosamente costruendo queste soluzioni vi ripeto speciali bisogna veramente scegliere l'ampiezza correttamente si riesce a vedere la turbolenza e con questo vi ringrazio grazie grazie a tutti grazie a tutti